Ci troviamo questa sera in questa bellissima piazza di Belmonte Calabro, nel centro storico per la 45esima edizione di Abbastati Ziti. Ringrazio dal profondo del mio cuore la Presidente Giovanna Ruggero e il Vice Presidente Francesco Sergi che ci hanno voluto fortemente qui. Rimanete aggiornati sulle nostre date e cliccate un like sulla nostra pagina Facebook. Grazie a tutti.